Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini. Io stesso lo sto sperimentando per me, ho la massima comprensione quindi da questo punto di vista per tutti gli italiani. Capisco le famiglie, i giovani che nel tempo libero sono soliti andare nei centri commerciali, frequentare i propri coetanei, riempire bar, ritrovarsi a gustare un aperitivo, un momento di socialità. Sono abitudini che ragionevolmente con il tempo, alla luce delle nostre raccomandazioni, potranno essere modificate e anche adattate alle nuove esigenze. Ma purtroppo tempo non ce n'è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e anche, ahimè, delle persone decedute. In particolare ai loro cari va tutta la vicinanza nostra del governo e penso di poter interpretare di tutti gli italiani. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione Io resto a casa. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze comprovate ragioni di lavoro da casi di necessità o anche per motivi di salute. Aggiungiamo in questo provvedimento anche un divieto degli assembramenti all'aperto in locali aperti al pubblico Abbiamo anche adottato in aggiunta un'altra misura per quanto riguarda le manifestazioni sportive A questo punto, in questo contesto non c'è ragione per cui proseguano le manifestazioni, le gare le manifestazioni sportive penso al campionato di calcio quindi dispiace dirlo ma tutti anche i tifosi devono prenderne atto Per quanto riguarda i trasporti no, non è previsto non è all'ordine del giorno una limitazione dei trasporti pubblici nella misura in cui chiaramente siccome il sistema produttivo a queste condizioni cerchiamo assolutamente di garantire la continuità del sistema produttivo dobbiamo anche consentire alle persone di poter andare a lavorare quindi con le dote cautela al momento non c'è nessuna misura A questo punto automaticamente portiamo la sospensione delle attività didattiche sia nelle scuole sia nelle università sino al 3 aprile quindi questo è un primo dato e questo serve per far chiarezza a tutte le persone su tutta la penisola isole comprese noi avremo quindi la sospensione delle attività didattiche prolungata sino al 3 aprile ma per quanto riguarda gli effetti con l'estero non cambia nulla nel senso che gli spostamenti dei cittadini italiani noi vogliamo gli spostamenti dei cittadini italiani avverranno sempre a quelle condizioni fermo restando che continueremo a controllare gli ingressi d'Italia per cautelarci con le verifiche e i controlli che abbiamo già predisposto io stesso ho avvertito l'opportunità di avere un coordinamento soprattutto per quanto riguarda l'aspetto dell'approvvigionamento dei macchinari delle attrezzature per l'assistenza sanitaria e quello potrebbe essere sicuramente un ruolo che potrebbe affiancare il coordinatore della protezione civile che ha compiti più complessi però siccome abbiamo visto che è strategico evitare sovraccarico negli ospedali perché poi andiamo in difficoltà per quanto riguarda le attrezzature di terapia intensiva subintensiva ci servono anche i dispositivi di protezione individuale ecco quello per esempio è un compito su cui sto riflettendo e proporrò senz'altro ai ministri una soluzione per rafforzare il coordinamento in questo settore perché in questo settore ovviamente le regioni hanno specifica competenza agli acquisti ma è chiaro che c'è necessità di un raccordo nazionale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti